Anticipazioni amici, infortunio per Lorella Cuccarini, si è fatta male durante la registrazione della puntata, ecco cosa è successo e soprattutto come sta. Durante la registrazione della quarta puntata del serale di amici di Maria De Filippi c'è stato il momento del guanto di sfida tra i professori. A scontrarsi sono sempre la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro la squadra composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La prima coppia ha portato in scena il ballo Dirty Danes, mentre la seconda coppia ha vestito i panni dei Blues Brothers. Dalle anticipazioni però ragazzi pare che anche questa sfida sia stata vinta dai duo Cucca Todo, ad oggi dunque sono 0 a 4 per la conduttrice e il ballerino, anche se la coppia perdente fa sempre molto divertire il pubblico a casa e anche quello in studio. Ma ragazzi è successo questo, infatti andiamo al titolo del mio video. Durante l'esibizione dei vincitori, quindi di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, Lorella si sarebbe fatta male. La professoressa infatti sarebbe stata protagonista di un infortunio al ginocchio. Non si sa bene cosa e come sia realmente successo. Potrebbe essere stato un brutto movimento oppure un colpo dato contro qualcosa. Quello di cui siamo certi è che per Lorella non sarebbe assolutamente nulla di grave. Ora la maestra starebbe anche bene. Quindi niente paura, solo un piccolo incidente che ballando può anche succedere. Lorella sta bene e la vedremo questa sera su canale 5 ad amici. Scriviti tu che cosa ne pensi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale perché solo così non ti perderai questo ma nessun altro prossimo video. Grazie a tutti.